Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 108 Amo pensarmi giovane. Di recente ho sentito dire che la mezza età va dai 35 ai 58 anni. In base a questo, non solo non sono più giovane, ma ho anche superato la mezza età. Le persone parlano della mezza età come se fosse un periodo di crisi. Una crisi di mezza età può essere causata dall'invecchiamento stesso, dai cambiamenti, da problemi o rimpianti per il lavoro, dalla carriera, le relazioni, i figli, le difficoltà fisiche. Le persone che vivono una crisi di mezza età sono spesso alla ricerca di un sogno o di un obiettivo indefinito. Proviamo rammarico per obiettivi non ancora raggiunti o ci sentiamo umiliati per il successo di amici o colleghi. Spesso reagiamo a tutto questo inseguendo sensazioni ed esperienze che ci fanno sentire giovani. Alla base di tutto questo, vi è la sensazione che manchi qualcosa. Nelle crisi di mezza età vi è spesso una saggezza tragica. Ci rendiamo conto della vacuità di molte cose tra quelle a cui aspiravamo. A volte però, a tutto questo, rispondiamo in modo non particolarmente saggio. Mi sono spesso chiesto se Zaccheo, a cui si riferisce il brano del Nuovo Testamento di oggi, stesse attraversando una crisi di mezza età. Che lo fosse o no, nel suo incontro con Gesù, trova la risposta che molte persone, anche oggi, cercano. Non importa da quanto tempo stai viaggiando nella direzione sbagliata, con Gesù non è mai troppo tardi. Puoi sempre svoltare, ricominciare e orientare la tua vita nella direzione giusta. Un uomo d'affari di successo, noto per la sua straordinaria integrità, un giorno mi parlò di un suo grande segreto. Mi disse che per ogni decisione era solito ricorrere al test della sedia d'ondolo. Il test consiste nel pensarsi un giorno in pensione, seduto su una sedia d'ondolo, a ricordare le decisioni prese in passato e a chiedersi «Quella decisione presa in quella occasione è stata davvero buona?» Se la risposta è sì, quella decisione è buona. Se la risposta è no, quella decisione non è buona e va evitata. Questo brano ci mostra le cose che dovremmo evitare, come la malizia, il pettegolezzo e la pigrizia. L'onestà e l'integrità sono aspetti fondamentali per una vita senza rimpianti. I tesori male acquistati non giovano, ma la giustizia libera dalla morte. La memoria del giusto è in benedizione. Il nome degli empi marcisce. Se saremo onesti e integri, potremo vivere al sicuro, ma se invece saremo disonesti, prima o poi verremo smascherati. Signore, aiutaci oggi ad essere saggi e giusti, ad evitare ogni forma di malizia e le chiacchiere stolte, a vivere una vita diligente, di onestà e integrità. Commento al Nuovo Testamento Impostare la vita nella giusta direzione Gesù è venuto per rendere possibile la redenzione e la trasformazione della nostra vita. Presi da parte i dodici spiega loro lo scopo della sua venuta e che sarà deriso, insultato, sputato addosso, fustigato e ucciso. Ma il terzo giorno risorgerà. È la crocifissione e la risurrezione di Gesù che danno speranza ad ogni essere umano. Il cieco è un esempio di persona totalmente trasformata dall'incontro con Gesù. La sua infermità lo ha portato a vivere sul ciglio della strada e a chiedere l'elemosina. Un giorno incontra Gesù e gli chiede pietà. Gesù risponde, Successivamente Gesù incontra Zaccheo. Come capo dei pubblicani, Zaccheo è all'apice della sua carriera. È ricco e il suo lavoro è probabilmente la sua priorità numero uno. Sebbene non sia più giovane, visto il ruolo e la ricchezza, è ancora in grado di correre e arrampicarsi su un albero. Da capo esattore delle tasse, ha sicuramente delle persone che lavorano sotto di lui. Uomo di successo e probabilmente con molte promozioni alle spalle, Zaccheo può guardarsi indietro con grande soddisfazione. Tuttavia, in quanto esattore delle tasse, sa di non essere amato dalle persone. Spesso persone nella sua posizione soffrono per il proprio lavoro e si sentono intrappolate nella vita che hanno scelto. Molto probabilmente ha una famiglia e, come leggiamo, una sua casa. Forse ha lavorato molto duramente per i suoi familiari. A volte una crisi di mezz'età può essere devastante per la vita dell'intera famiglia. Una persona in crisi di mezz'età può vivere in uno stato di rabbia, depressione e risentimento nei confronti di coloro che gli sono più vicini. Sente che il lavoro non basta e che la famiglia ha bisogno di qualcosa di più di ciò che può ottenere con il lavoro. Zaccheo appartiene quasi certamente ad una famiglia religiosa. I suoi genitori lo hanno chiamato Zaccheo, il giusto. Ma ora gli stessi religiosi lo considerano un peccatore perché riscuote le tasse dal suo stesso popolo per darle ai romani e per tenerne per sé. Eppure cercava di vedere chi era Gesù. Probabilmente si rende conto di avere bisogno di qualcosa di più. Nonostante tutti i suoi soldi, il successo, la vita familiare e la religione, sente che nella sua vita manca ancora qualcosa. Zaccheo vuole vedere Gesù senza che Gesù lo possa vedere. Molte persone anche oggi pensano che a causa del proprio peccato e delle proprie imperfezioni Dio preferisca starsene lontano da loro. Ma la verità è che Dio ama le persone imperfette. Non ci volta mai le spalle e ama rivolgersi a noi. Zaccheo non si rende conto che da Dio non ci si può nascondere. Gesù lo conosce. Conosce perfino il suo nome e lo ama. Qualunque cosa tu abbia fatto nella tua vita e qualunque sia la tua imperfezione, Gesù ti ama e vuole avere una relazione con te. Ma ha bisogno di una risposta. In quel momento di incontro Gesù gli dice «Scendi subito». In quel momento Zaccheo si comporta in modo umile e obbedisce a Gesù. Non rimanda all'incontro. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Gesù non si lascia scoraggiare dai commenti negativi della folla. Il risultato è una totale trasformazione nella vita di Zaccheo. Dice «Io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e se ho rubato a qualcuno restituisco quattro volte tanto». Il suo atteggiamento verso i beni cambia completamente. Passa dal quanto posso guadagnare al quanto posso dare. Tutta la sua famiglia è trasformata. Gesù gli dice «Oggi per questa casa è venuta la salvezza». Attraverso la venuta di Gesù la salvezza raggiunge la sua casa. Salvezza significa libertà. Significa una relazione con Gesù che dura per sempre. È proprio qui che possiamo trovare la giusta prospettiva dove collocare una crisi di mezz'età. Anche tu, come Zaccheo, puoi essere parte della trasformazione della società da parte di Dio. La trasformazione di Zaccheo e della sua famiglia porta benefici ai poveri e giustizia per coloro che sono ingannati. La sua decisione di seguire Gesù supera ampiamente il test della sede a dondolo. Signore, grazie per averci amati e per aver usato le nostre crisi per trasformare la nostra vita in meglio. Aiutaci a incontrarti di nuovo oggi. Commento all'Antico Testamento Vivere una vita piena Di recente mi è capitato di sedermi a pranzo vicino a una donna di 86 anni. Era su una carrozzina. Ho presto capito che il suo corpo era in decadenza ma la sua mente no. Durante la nostra conversazione ha sollevato alcune questioni teologiche molto difficili. Alla mia domanda su cosa pensasse riguardo a quelle stesse domande ha citato questo passo biblico Le cose occulte appartengono al Signore nostro Dio ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre affinché pratichiamo tutte le parole di questa legge. Mi ha detto poi che era arrivata a comprendere che di alcune cose possiamo arrivare a conoscere la risposta ma di altre come il tipo di domande da lei sollevate probabilmente no. Esse fanno parte delle cose segrete che appartengono al Signore. Ci sono alcune cose tuttavia che ci appartengono. Dio ce le ha rivelate perché potessimo avere successo in tutto ciò che facciamo. Dovremmo però evitare di volgere il cuore lontano dal Signore pensando avrò benessere anche se mi regolerò secondo l'ostinazione del mio cuore. Il modo per sapere che un giorno saremo in pace sulla nostra sedia d'ondolo è ascoltare e obbedire a Dio con tutto il cuore. Obedirai alla Sua voce con tutto il cuore e con tutta l'anima. Allora il Signore tuo Dio avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo da tutti i popoli in mezzo ai quali il Signore tuo Dio ti aveva disperso. Tu ti convertirai, ascolterai la voce del Signore e metterai in pratica tutti questi comandi che oggi ti do. Il Signore infatti gioirà di nuovo per te facendoti felice quando ti sarai convertito al Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. Non è mai troppo tardi per iniziare a vivere una vita piena. Signore aiutami a vivere d'ora in poi una vita di sincera obbedienza a te. Possa oggi segnare un nuovo inizio. Aiutami a obbedirti con tutto il cuore.